Buonasera, Presidente. Come va? Come va? Ma è te la città? Ma è te la città? Ma è sceso? VINDITATIVO! Ma se noi è a Bari o no? Ma che stai facendo? Abbiamo visto amici nel film Ma siete persone educate? Ragazzi, ragazzi stiamo a parlare di un prodotto italiano ... ... ... ... ... Avete fatto l'offerta? Prima un milione e otto poi ho incrementato il 200 io ho dato un milione e quattro e lui viene ripetato Ma questi due qua è un anno o due anni? No, lui vuole essere un anno Ah, un anno dunque. Presidente ... 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 Grazie a tutti.